Gioconda ricoperta di zuppa. Due attiviste ambientaliste hanno lanciato del liquido contro il vetro blindato che protegge il celebre quadro di Leonardo da Vinci, esposto al Museo Louvre di Parigi. Il nostro sistema agricolo è malato, ha detto una delle due attiviste posizionandosi davanti al quadro. Gli addetti del Louvre sono intervenuti bloccando le due ambientaliste e hanno fatto evacuare la sala. Dei pannelli neri sono stati installati per coprire il dipinto. Grazie.